Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi le novità per questa season 8 continuano ad arrivare a fiorde proprio. Si dice a fiorde? Non lo so, sono comunque tantissime. Nel video di oggi ragazzi parleremo della seconda possibilità. Che cos'è? Che oggi sono un po' dislessico. Che cos'è? Non è altro che qualcosa relativo al furgone che si è visto dietro al quartiere. Parleremo anche ragazzi della mappa del tesoro. Sapete che questa season si chiama La X segna il punto. È proprio il titolo della season e quindi questa mappa del tesoro cercheremo di capire che ruolo avrà nel proseguio. Ovviamente ragazzi non mancheranno una bella carrellata di leaks che vi terranno sempre aggiornati anche sul dietro le quinte di quello che succede in Fortnite. Per adesso vi ringrazio. In tantissimi utilizzate il mio codice XIUDERONE quindi grazie di cuore ragazzi per il vostro supporto. Mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica delle mie live e dei miei video. Prima però ragazzi la domandina ve la devo fare. Sapete che ci tengo tantissimo ai vostri commenti qui sotto alla mia domandina. Ed è molto particolare. Qual è tra le due la skin più assurda? Dai raga ci sono tante skin ignoranti in Fortnite ma queste qua vanno veramente nella top delle top. Io adoro il pesce secco veramente ignorantissima però mi hanno fatto la skin banana ragazzi. Mi sa che la skin banana per secondo me a parer mio è nettamente più ignorante e assurda del pesce secco. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti che sono proprio curioso di capire chi vince questa competizione. Ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare ragazzi della schermata di caricamento della prossima settimana. Tra l'altro arriverà anche lo standardo segreto. Attenzione ragazzi perché ci sarà anche quello. Schermata di caricamento che come vedete mostra la skin ibrido che è come possiamo notare comandata dal re del fuoco alle nostre spalle con i suoi seguaci che dovrebbero essere se non erro le altre versioni sbloccabili della stessa skin. Notiamo ragazzi sopra di me proprio là in alto l'uovo sappiamo che uno delle cinque uova di drago che erano sotto al castello del picco polare è di fianco al trono nel vulcano. Sappiamo ragazzi questo ve lo dico io non so se avete mai visto il trono di spade che le uova di drago si schiudono solo se rimangono a stretto contatto con una fonte di calore incandescente e per questo ragazzi potrebbe essere il motivo per cui una delle uova è vicino al trono nel vulcano. Staremo ovviamente a vedere se ci saranno delle evoluzioni di questo uovo in questa season o perché no magari anche nella prossima ma andiamo avanti e parliamo ragazzi di questa mappa del tesoro sì ragazzi perché dovete capire che la mappa del tesoro che vediamo anche nel trailer della season 8 in realtà è un oggetto che è appena stato trovato nei file di gioco. Come vedete ragazzi esiste davvero sarà un oggetto che potremo prendere probabilmente e non capiamo ancora quale sia la sua utilità nel senso insieme a questa mappa del tesoro è stato trovato anche questo file che non è altro che una X. Voi come sempre non guardate i colori perché sapete sono quelli ancora in preparazione e questa X ragazzi dovrebbe stare a significare ovviamente il punto in cui scavare. Dopo la X abbiamo proprio fisicamente il punto da scavare appunto ed è stata trovata anche una vanga ragazzi quindi porca miseria ci sarà da fare qualche cosa. La domanda è ma queste cose saranno nel battle royale o saranno in una modalità a tempo limitata anche perché le sorprese non sono finite ragazzi è stato trovato anche il forziere. Questo ragazzi è proprio lo stesso identico forziere o comunque molto simile che viene mostrato nel trailer e lo vediamo sia chiuso sia aperto. Che cosa conterrà? Non lo so sappiamo ragazzi che c'è già un forziere molto speciale in game che è quello che si può trovare nel quartiere forziere diverso anche graficamente rispetto a quelli che siamo abituati a vedere nel battle royale perché contiene delle armi leggendarie. Quel forziere che vi ho appena fatto vedere invece è tutt'altra cosa e quindi ragazzi aspettiamoci davvero di cominciare secondo me dall'update 8.10 quello che arriverà martedì prossimo a vivere per davvero la season numero 8. Cominciaremo ad entrare nell'ambientazione dei pirati ma andiamo avanti e parliamo un attimo proprio del furgone che è stato trovato dietro al nuovo quartiere voglio subito dirvi una cosa ragazzi non allarmatevi. Allora non è una possibilità di respawn del nostro personaggio nel battle royale sembrerebbe sembrerebbe che questo furgone dia sì la possibilità di respawnare. Si chiama infatti second chance in inglese e adesso vi faccio vedere una scusate vi faccio vedere una cosa ma sembra che sia utilizzabile solo in una modalità particolare probabilmente in una ltm che verrà inserita perché sono stati trovate è stata trovata questa immagine nei file di gioco ed è un'immagine interessantissima si chiama second chance card quindi tessera della seconda possibilità sembrerebbe che una volta che venga trovata la tessera non sappiamo dove nella mappa ma ci sarà se stiamo giocando in team inserendo questa tessera nel furgone sarà possibile far respawnare un nostro compagno di squadra. Quindi ragazzi non allarmatevi non è probabilmente il caso di pensare che arriverà il respawn nella modalità in singolo nel battle royale ma come avevamo già anticipato qualche giorno fa è molto più corretto che venga inserita in una modalità a parte in modo che chi ha piacere di giocare giochi solo in quella modalità ovviamente ragazzi non appena avrò delle notizie più dettagliate sarete i primi a saperlo vi ricordo anche che io pubblico sulla mia pagina di instagram ogni tanto ci sono delle cose che su youtube non metto quindi se vi va andate a iscrivervi anche lì xyuder mi trovate semplicemente. Diamo un'occhiata ragazzi però una cosa che non vi avevo ancora detto nuovo veicolo scoperto questa è l'immagine che abbiamo già visto principale della season 8 guardate il quadrato che c'è tra la gamba dell'ibrido e la skin quella con l'arco che mi dimentico il nome. Vedete quella cosa ragazzi esatto quella è la hamster ball quindi la palla da criceto chiamato volgarmente in italiano così ed è un nuovo veicolo lo so per due motivi motivo numero uno ragazzi questo è un x interessantissimo che ci dice di già che sarà oggetto di una sfida delle prossime settimane dovremo utilizzare la hamster ball in diverse partite. Quindi ragazzi potrebbe essere un veicolo blindato e se ci pensate adesso vi faccio vedere una cosa molti magari non se la ricordano ma la hamster ball ragazzi in realtà già esiste e la vediamo in Jurassic Park quella che usano le persone appunto per scorrazzare allegramente in giro per l'isola di Jurassic Park senza rischiare di essere danneggiati dai dinosauri. Quindi ragazzi confermato anche questo nuovo veicolo ce ne sono tante di cose che potrei dirvi ragazzi ma per oggi mi fermo qua per non caricarvi spero che il mio video delle news vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi intanto al canale noi ci vediamo alle 13 live ciao. Ciao! 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 Grazie a tutti.